Musica Operazione Fiamme del Tavoliere, 5 misure cautelari nel Cosentino, 17enne, braccio operativo della banda. Estorsione, tentata estorsione, lesioni personali, furto in appartamento, danneggiamento seguito da incendio, incendio, resistenza pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Queste le accuse in riferimento alle quali i militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro, supportati da personale della CIO del 14esimo Battaglione Calabria e da unità cinofile dello squadrone riportato Cacciatori di Calabria. I militari hanno eseguito a Trebisacce e Cassano Ionio nel Cosentino due ordinanze applicative di 5 misure cautelari, emesse dai GIP presso il Tribunale di Castrovillari e presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, nei confronti di Giuseppe Lofiego e Federico Salmena, sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, di PL 35enne sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, di una donna 70enne sottoposta all'obbligo di presentazione alla PG, mentre per un ragazzo 17enne è stata prevista la misura del collocamento in comunità. Le misure scaturiscono da una complessa attività di polizia giudiziaria, condotta anche mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali dai militari della stazione Carabinieri di Trebisacce, che ha avuto origine lo scorso dicembre, a seguito di una denuncia da parte di un commerciante locale. Le indagini dei militari hanno permesso di constatare una serie di condotte estorsive ed incendiarie, pianificate dall'ideatore del gruppo, Giuseppe Lofiego. Nell'ambito degli approfondimenti investigativi è emerso che Lofiego avrebbe preteso di imporsi quale protettore di diversi commercianti nel comune di Trebisacce. In particolare, in una circostanza, si rivolgeva ad una delle vittime affermando che «se qualcuno si presenta a chiederti qualcosa, digli che questa è zona di Zio Peppe». O ancora, chiedendo espressamente un gesto di beneficenza per i carcerati. In caso di tentativi di ribellione da parte delle vittime alle sue richieste, Lofiego, attraverso una rete di fidati complici e in particolare della manodopera criminale di un ragazzo di giassettenne, poneva in essere ritorsioni di varia natura, creando un clima di terrore e sopraffazione in quel territorio, mediante la consumazione di incendi ed altri reati. Come documentato nel corso dell'indagine, proprio il minore, nel rivolgersi ad una delle vittime, vantava amicizie con pregiudicati di spessore, dicendo «io ho amici che hanno i mitra e vi faccio a pezzettini» e nel fare riferimento all'Offiego e agli altri complici, in un'altra occasione, affermava che «a tre bisacce» comandano loro. Daniela Maiolo, per Teleionio. Carabinieri recuperano mobili sottratti in tre appartamenti di Copanello, denunciato imprenditore originario di Lamezia per ricettazione. Approfittavano dell'assenza dei proprietari di alcune seconde case che vivono fuori dalla Calabria per asportare gran parte degli arredi, soprattutto quelli di maggior valore economico. Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri di Gasperina hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro un 38enne imprenditore originario di Lamezia Terme, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. In particolare, i Carabinieri sono arrivati all'imprenditore nel corso di una specifica attività info-investigativa, avviata dopo la denuncia a sporta presso gli uffici dell'arma dai proprietari dei tre appartamenti di un residence nella zona di Copanello. Gli indizi raccolti dagli investigatori dell'arma nel corso dell'attività di sopralluogo e le informazioni assunte sul territorio hanno consentito, nel giro di pochi giorni, di localizzare due garage in uno stabile di Stalettì, dove l'imprenditore deteneva gran parte della refurtiva sottratta dagli appartamenti trafugati. In particolare sono stati rinvenuti sei sedie in metallo, quattro sedie pieghevoli in metallo lavorato, con relativo tavolo pieghevole rotondo, due poltrone pieghevoli in legno, due specchi da parete, due vasi in ceramica, mobili antichi in legno, libreria in legno con dieci ripiani e quattro cassetti, divano da due posti, lampada da comò, salotto in vimini costituito da poltrona, divano e tavolino, una fontana in ghisa da esterno, un mobile in legno con scrittoio ribaltabile, comò in legno con inserti in metallo, comodino in legno. Gli arredi recuperati sono stati già riconosciuti dai proprietari e prossimamente verranno loro restituiti. Scoperta frode nel Regino, Guardia di Finanza sequestra beni per 130.000 euro. Beni del valore di 130.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria a un imprenditore di Villa San Giovanni, rappresentante legale di una società operante nel settore della lavorazione del legno. Il provvedimento è frutto di indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Gerardo Domenigliani e dirette dal sostituto procuratore Nicola De Caria, che avrebbero consentito di accertare a carico dell'indagato la violazione del reato di dichiarazione fraudulenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'indagine avrebbe permesso di ricostruire una frode fiscale organizzata dall'amministratore legale dell'impresa, il quale ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti al fine di frodare il fisco, annotando nella contabilità e poi riportando nelle dichiarazioni annuali fatture d'acquisto apparentemente emesse dalle ditte fornitrici, ma in realtà da lui stesso prodotte, per un ammontare complessivo di oltre 327 mila euro, i cui importi indicati nelle dichiarazioni annuali presentate hanno determinato un illecito risparmio di imposte per un totale di quasi 130 mila euro. Da qui il sequestro per un importo equivalente all'imposta evasa di disponibilità finanziarie liquide e beni mobili direttamente riconducibili all'indagato per la totale dell'importo oggetto di sequestro. Daniela Maiolo per Teleionio Corigliano Rossano, i lavoratori Enel scendono da Ciminiera, c'è un accordo con l'amministrazione. Enel, impiego immediato dei due lavoratori, fino alla fine dei lavori della ditta, e sottoscrizione di un protocollo tra Enel, istituzione e sindacati, volto a garantire l'impiego dei lavoratori storicizzati. La proposta è stata accettata dai lavoratori, che sono scesi dalla Ciminiera dell'ex centrale. A darne notizie, l'assessore al lavoro del Comune di Corigliano Rossano, Tatiana Novello, esprimendo soddisfazione per la risoluzione della questione eseguita ad un'interrotta attività di mediazione tra le parti da parte dell'amministrazione comunale. Anche a nome del sindaco Flavio Stasi, la Novello rinnova il ringraziamento ad Enel e l'SPA per la disponibilità e la volontà di dialogo in questa complicata trattativa, e alla CGL Pollino Sibari Tirreno per il suo fondamentale intervento nel raggiungimento dell'obiettivo, e alle forze dell'ordine impegnate a presidiare il sito in questi giorni. È stata garantita la incolumità dei lavoratori, la sicurezza della centrale e rafforzata la partnership tra l'azienda, le organizzazioni sindacali confederali e l'istituzione. Sarà costituito un tavolo per la sottoscrizione di un protocollo atto a definire strumenti a garanzia dei lavoratori. L'ulteriore obiettivo raggiunto garantirà l'impiego di maestranze locali e del monitoraggio dello stesso, con particolare riguardo ai lavoratori storicizzati. Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Borgia per la scomparsa di Egidio Chiarella L'amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliere regionale Egidio Chiarella. La nostra comunità da oggi è un po' più povera, se ne va dopo una lunga malattia contro la quale aveva combattuto con grande coraggio un uomo e un politico che con la propria attività amministrativa ha sempre operato nella direzione del miglioramento, della qualità della vita dei calabresi. Si legge in una nota del sindaco Elisabeth Sacco Pensiamo all'istituzione del Comitato regionale della comunicazione in Calabria, alla prima legge urbanistica della Calabria, alla legge sui servizi sociali, ma anche alle norme per il bed and breakfast calabrese e la normativa per la trasparenza e la pubblicità degli atti regionali e sulla rete dei trasporti pubblici locali. Ha lavorato tanto Egidio Chiarella, senza dimenticare le sue origini borgesi, e nella nostra comunità si era impegnato con passione tra i banchi del Consiglio Comunale. Docente, scrittore e giornalista, il suo interesse per la comunicazione in tutte le sue forme lo aveva contraddistinto nel percorso successivo all'esperienza politica, che aveva condotto sempre con un garbo istituzionale, non comune. Lo ricordiamo, conclude la nota del Comune di Borgia, come una persona mite, uomo di cultura e mediazione. E questi tempi di politica urlata e intolleranza dilagante, i suoi modi gentili mancheranno al confronto e al dialogo. Si sente male, rimandato a casa, dopo poco muore, aperta inchiesta dalla procura di Locri. Presunto caso di mala sanità a Locri, un uomo di 55 anni di San Luca è morto martedì scorso dopo essere stato dimesso. L'uomo che accusava diversi sintomi si è agregato presso il pronto soccorso di Locri, dove è stato sottoposto a visita medica. Dopo le dimissioni, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate. Capogiri e malessere fisici che potrebbero essere stati sottovalutati. All'uomo, infatti, sono stati diagnosticati dei semplici dolori intercostali. Il 55enne si è recato una seconda volta presso il pronto soccorso, dove, nuovamente, in attesa del proprio turno, si è accasciato per un forte malore, battendo anche violentemente la testa. Per lui non c'è stato più nulla da fare. I familiari hanno sporto denuncia e la Procura di Locri ha immediatamente aperto un'inchiesta. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Sul corpo è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. Fase 2. Santelli convoca Task Force Economica. Si riunirà il 19 maggio. Si riunirà a martedì prossimo 19 maggio la Task Force a sostegno del settore economico produttivo calabrese, convocata dal Presidente della Regione, Iole Santelli, per affrontare le ricadute dell'emergenza coronavirus. Lo si apprende da fonti sindacali. La Task Force, istituita con il Decreto Presidenziale numero 21 del 17 marzo, ha il compito di individuare tutte le azioni da interpretare al fine di affiancare e sostenere i settori economici produttivi della Calabria, interessati dagli effetti negativi della diffusione epidemiologica in atto. La Task Force Economica e Sociale è presieduta dal Presidente della Regione ed è coordinata dal Dirigente Generale della Presidenza della Regione e vedrà la presenza di un rappresentante di Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Confagricoltura, Confcommercio, CNA, Coldiretti, CIA, Union Camere, Lega Coop, CGL, CISL, UIL, UGL. Prevista la presenza anche dei dirigenti dei Dipartimenti Regionali sviluppo economico e attività produttive, agricoltura e risorse agroalimentari, turismo e spettacolo. Lavoro, formazione politica e sociali, programmazione comunitaria e programmazione nazionale. Quella di martedì 19 maggio è la prima riunione della Task Force a sostegno del settore economico produttivo calabrese. Da Carlo Elisabeth Taverna per Teleionio. Sanità, il centro Covid regionale sorgerà all'ospedale pugliese di Catanzaro. Il centro Covid regionale sorgerà all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro e non più all'interno dell'ex policlinico universitario di Villa Bianca. La gestione dell'emergenza Covid-19 all'interno dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio, spiega la direzione dell'azienda ospedaliera, è stata effettuata con soluzioni che hanno il più possibile cercato di separare i percorsi Covid dai non-Covid, sfruttando l'esistenza di un padiglione di malattie infettive staccato dal presidio principale. Allo scopo di migliorare ulteriormente la soddetta gestione, riducendo al minimo l'ingresso di pazienti Covid sospetti all'interno del presidio pugliese, si è ritenuto opportuno per la fase 2 dell'emergenza procedere a rendere il padiglione di malattie infettive ancora più autonomo nella gestione dei pazienti Covid, creando un piccolo presidio Covid inserito comunque in un contesto in cui ogni tipo di consulenza, specialistica, prestazione, sarebbero garantite. La decisione è stata presa nel corso di una riunione alla cittadella a cui erano presenti le autorità sanitarie e politiche della Regione. Daniela Maiolo per Tele Ionio Santelli, mascherina a 50 centesimi, ma che 3 costano 5 euro nei market. Sulle mascherine la gestione centrale mi sembra un gran pasticcio. Non è vero che le mascherine costano al massimo 50 centesimi. Io ho visto nei supermercati 3 mascherine a 5 euro. A dirlo la governatrice della Calabria, Iole Santelli, ha diritto e rovescio sul Rete 4. La gestione della sanità durante la pandemia, ha poi chiarito la Santelli, non è delle Regioni. Non prima di criticare il decreto rilancio che, dice, ha molte ombre. Come ad esempio chi aprirà un esercizio commerciale, un ristorante, si vedrà addossate le responsabilità penali se si ammala un proprio dipendente di Covid. Questo è un tema importante. Mi rendo conto del momento difficile, ma le misure a pioggia per accontentare tutti hanno poi dei limiti. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabrano. Consiglieri di Io Resto in Calabria. Sui tamponi in frigo, come su Villa Torano, dà la Regione solo caos e incertezze. Ci sono tante persone che aspettano l'esito del tampone anche da 10 giorni. Potrebbero esserci dei positivi che non sanno di esserlo. Si registrano attese infinite per i tamponi di controllo. Molti segnalano di non essere stati sottoposti a teste in autostrada a Mormanno e a Rosarno. Lo affermano i consiglieri regionali del gruppo Io Resto in Calabria, Pippo Callipo, Graziano Di Natale e Marcello Anastasi. I calabresi, insomma, aggiungono Callipo, Di Natale e Anastasi, stanno vivendo nell'angoscia e la Regione non fa che alimentare questa babbele sanitaria, con risposte inadeguate e maldestri tentativi di sviare l'attenzione. Il caso dei tamponi conservati in frigorifero è l'ennesima conferma del fatto che non c'è alcuna chiarezza nella linea di comando della sanità calabrese e che, in oltre due mesi di emergenza, la Regione non ha fatto nulla per risolvere le criticità che tutti conoscevano. Con i tamponi è successo ciò che si era già verificato con i fatti di Villa Torano. La Presidente della Regione, proseguono i consiglieri di Io Resto in Calabria, sostiene di essere in contatto costante con il Commissario alla Sanità, ma alla prima difficoltà scarica tutto sul Governo. La stessa Presidente rimane in silenzio mandando avanti il DG del Dipartimento Tutela della Salute, che alla fine non può che ammettere le falle evidenti nelle procedure. Daniela Maiolo per Teleionio Coronavirus Nesci conferma che si sta lavorando per sospendere i piani di rientro nelle regioni commissariate. Ciascun Presidente di Regione è soggetto istituzionale responsabile della gestione dell'emergenza Covid-19, come da decreto del Comandante della Protezione Civile. Ma nelle regioni commissariate e che perseguono gli obiettivi del piano di rientro, come la Calabria, si sono rilevati gravi vuoti di potere e conflitti di competenza nella gestione dell'emergenza sanitaria. Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera, Dali Lanesci, durante la sua interpellanza urgente al Ministero della Salute, che si è tenuta oggi in aula a Montecitorio. I vincoli imposti dal piano di rientro, inoltre, non consentono di realizzare rapide misure di contrasto fondamentali per gestire l'assistenza sanitaria nell'emergenza, come ad esempio il reclutamento urgente di personale sanitario e la loro stabilizzazione. Problematica su cui il Governo si è già impegnato accogliendo un ordine del giorno a mia prima firma alla Cura Italia, valutando l'opportunità di sospendere i piani di rientro. Proseguiamo oggi più che mai per dare la possibilità a queste Regioni di agire nell'interesse e nella tutela della salute dei cittadini, abbandonando ogni vincolo figlio della vecchia austerity. La Regione annuncia dal 18 maggio 12 nuovi treni su tratte ionica e tirrenica. L'assessore regionale all'infrastruttura e domenica Catalfamo rende noto che la Regione Calabria ha richiesto a Trenitalia l'incremento del numero delle corse regionali per soddisfare le richieste dei pendolari che della settimana prossima riprenderanno a spostarsi per lavoro. Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 18 maggio. L'azione è stata determinata dai riscontri da parte degli uffici sul monitoraggio relativo all'esercizio delle linee, nonché dall'esame delle esigenze della suddetta categoria di utenza, anche rispetto alle nuove disposizioni della fase 2 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Nello specifico, sottolinea l'assessore, saranno 12 i treni in circolazione in più nella fascia pendolare mattutina e del primo pomeriggio, distribuiti sulle principali linee della Calabria, con un incremento di collegamenti sulle due direttrici, Tirrenica e Ionica, che porta l'offerta complessiva a 83 corse al giorno, pari al 43% dell'offerta standard. Tutte le informazioni ed il nuovo orario dettagliato sono consultabili sulla sezione dedicata al portale regionale, nonché sui sistemi di vendita app e sito web, oltre che nella sezione infomobilità del sito web di trenitalia.com. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Bandiera blu a tropea, siderno e rocca imperiale, tassone, orgoglio per la Calabria, ora un sostegno concreto agli operatori turistici. L'attribuzione della bandiera blu a tropea, siderno e rocca imperiale deve essere motivo di soddisfazione ed orgoglio per tutti i calabresi e deve far rendere conto che nella nostra terra ci sono enormi potenzialità inespresse. Il consigliere regionale Luigi Tassone saluta con l'entusiasmo questo nuovo traguardo per importanti località turistiche e sottolinea l'esigenza di coniugare le bellezze paesaggistiche con il mare pulito, in modo da valorizzare, anche grazie ad una puntuale tutela dell'ambiente, quei luoghi che rappresentano un patrimonio straordinario a disposizione di tutta la comunità umana. Considerato che anche Soverato ha già ottenuto la bandiera blu, rileva Tassone, è facile osservare che l'area centrale della Calabria dispone dei mezzi per essere altamente competitiva in ambito turistico, non avendo niente da invidiare ad altre zone della penisola e anzi può dimostrare la sua vocazione e la dimensione che le compete. In particolare Tropea è la prima località del Vibonese a ricevere questo riconoscimento e anche questo la pone fra le capitali del turismo italiano. Adesso, aggiunge l'esponente del PD, occorre prestare la dovuta attenzione agli operatori turistici per sostenere la ripresa del settore e far emergere quelle specificità che possono rendere desiderabile la Calabria, migliorandone l'immagine e proponendo un nuovo volto di una regione che può cambiare il proprio futuro grazie alle risorse uniche di cui è dotata. Per Tassone bisogna offrire agli albergatori misure concrete e funzionali alla crescita e anche la regione deve fare di più per essere accanto agli operatori del settore con i fatti e non solo con le parole. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabrano Nascondeva in ovile fucile e munizioni a Platì, arrestato da carabinieri. Nascondeva in un tubo in ceramica trovato in un ovile di sua proprietà un fucile e munizioni. Un bracciante agricolo di 64 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Locri a Platì con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. I militari, nel corso di una perquisizione compiuta all'interno di alcuni immobili e terreni agricoli di proprietà dell'uomo, con l'ausilio dello squadrone li portato a cacciatori, hanno scoperto il fucile da caccia e una trentina di cartucce. Ampliando il raggio di controllo ed alcuni fondi agricoli di proprietà del 64enne incontrata a Salice, sempre nelle vincinanze dell'ovile, i carabinieri hanno trovato interrata in un appezzamento abbandonato una busta di plastica con all'interno circa 30.000 euro in banconote di vario taglio. Il denaro è stato sequestrato. Da Carlo Elisabeth Taverna per Teleionio. Raid armato con spari e spaccio a Crotone, 11 condanne. 11 persone sono state condannate dal giudice dell'udienza preliminare di Crotone, Romina Rizzo, accusate a vario titolo di tentato omicidio e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra le persone condannate ci sono i tre autori della sparatoria avvenuta il 9 gennaio dello scorso anno nel rione Fondo Gesù, davanti alla stazione dei Pullman, in quel momento affollata di pendolari. Soprattutto studenti che si apprestavano a rientrare nei paesi di provenienza. Da un'auto in corsa vennero esplosi numerosi colpi di fucile e pistola all'indirizzo di due persone che si trovavano in un negozio di frutta, ma che rimasero illese. Un raid punitivo per il controllo dello spaccio di droga nel quartiere. Per la sparatoria, ma anche per detenzione e spaccio di droga, il giudice ha inflitto 12 anni di reclusione a Ferdinando La Forgia, 15 anni e 6 mesi a Messimiliano La Forgia, 14 anni a Gianluca La Forgia. Nell'operazione che portò in manette i tre esecutori dell'agguato, furono arrestate anche altre 8 persone accusate di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso il giudice ha inflitto pene più alte di quelle chieste dal PM a Mario Cimino. ha inflitto 4 anni e 6 mesi di reclusione, a Umberto Vona 8 anni, a Salvatore Santoro 4 anni e 6 mesi, a Francesco Gallo 5 anni e 8 mesi, a Nicola De Giovanni 6 anni e 8 mesi, a Emilio Galea 4 anni e 4 mesi, a Luigi Mendicino 8 anni, a Bruno Todarello 4 anni e 6 mesi. Per Teleionio, Anna Maria Colabravo. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Buonasera a tutti e tutte. Ho scelto di partire col tema delle emozioni perché in un momento delicato come quello che stiamo vivendo gli sbalzi emozionali sono all'ordine del giorno. Innanzitutto è fondamentale fare una premessa. Come dico sempre ai miei pazienti, ma non solo, è importante legittimare questi stati d'animo, qualunque essi siano, dalla frustrazione alla rabbia, alla paura, alla noia, perché sono una risposta normale a una situazione che non lo è, in quanto è oggettivo che ci ritroviamo a vivere una situazione che comporta un cambio di vita e d'abitudini a 360 gradi. Basti pensare solo al distanziamento sociale improvviso, alle mascherine, ai guanti, all'incertezza economica, alle perdite, la limitazione della propria libertà, tutte cose a cui non avevamo neppure mai pensato e che quindi ci si ritrova impreparati ad affrontare. Rispetto all'inizio di questo stato d'emergenza sicuramente qualcosa è cambiato. Infatti si va verso un progressivo allentamento delle misure restrittive e anche questo in un certo qual modo può comportare una reazione interna contrastante, perché ci si può ritrovare combattuti tra la voglia di ritornare alla vita di sempre, ma allo stesso tempo col timore di non poterlo fare allo stesso modo. E quindi questo, unito al fatto che ogni giorno e ogni ora riceviamo un gran quantitativo di informazioni, spesso in contrasto fra loro, sovrapposte fra loro, non aiuta. A tal proposito un rimedio razionale, sempre verde, consiste nel fare affidamento solo alle fonti ufficiali e comprovate, ignorando tutto il resto ed evitando la spasmodica ricerca di informazioni, limitandola ad un massimo di due volte al giorno. Chiaramente il web di per sé non è negativo, però non deve diventare l'unica attività della giornata. Chiaramente se noi pensiamo al monitorare H24, la situazione, oppure al sentito dire cui siamo sottoposti tutti i giorni, va da sé che la situazione d'ansia interna non può che peggiorare e quindi noi ci dissodiamo dal presente e da tutte quelle cose che invece possiamo fare, sempre nel rispetto delle regole igieniche e di tutte quelle cose che a tutela della nostra e dell'altrui salute, per l'appunto si possono già cominciare a intravedere e fare. Tornando allo specifico delle emozioni, il nostro tema di oggi, è opportuno ricordare che più che mai in questo periodo è fondamentale dare voce a quello che si sente e si prova, anche quando quello che si sente e si prova non è bello, ricordando sempre di non essere da soli e ricordandolo se possibile anche a chi ci sta vicino. Chiaramente in questo momento il rapporto con noi stessi e con gli altri potrebbe essere cambiato. Questo va affrontato ed elaborato nel migliore dei modi. Infatti è l'ora di porsi delle domande e di trovare le proprie personali risposte. Reprimere le emozioni aumenta lo stress e lo stress non fa che indebolire le difese immunitarie. Questo in generale, ma oggi ancora di più, è assolutamente controindicato. Quando ci ritroviamo ad affrontare delle situazioni difficili, l'unico modo che abbiamo per superarle consiste proprio nell'affrontarle. Ognuno col suo modo e alla propria personale velocità, perché siamo tutti diversi e come dicevo in principio, nessuno di noi era munito, e sottolineo nessuno, di manuale per l'uso o di una strategia ottimale per poter affrontare questa situazione. Approfitto per collegarmi alla domanda che mi è arrivata da parte di Daniela, che mi chiede qual è il modo migliore per far fronte a questa situazione. Allora, rispondo a Daniela dicendo che non esiste un modo universalmente giusto, però sicuramente esistono delle strategie, delle modalità funzionali, come attivare la propria fantasia, dedicarsi a nuove idee e progettare. Questa è la fase di vita in cui siamo chiamati a ricordare tutte le cose che ci sono mancate e a dare valore alle cose che per noi sono importanti. Quindi, perché insisto tanto sul progettare? Perché progettare ci permette di dare spazio ad un'idea che inevitabilmente ci è venuta a mancare, ma che merita di essere ricostruita, ovvero quella del nostro futuro. Con questo io concludo e preannuncio quello che sarà il tema della settimana successiva, ovvero le relazioni interpersonali. invito tutti e tutte a porre una domanda, inviandola alla redazione di Teleionio, che poi avrà cura di girarla e a cui io risponderò personalmente durante la prossima registrazione. Quindi vi saluto, auguro una buona serata e a venerdì prossimo. A Chiaravalle è iniziata la sanificazione nelle attività commerciali, come promesso nella riunione che si è tenuta presso Palazzo di Città tra amministrazione e commercianti, tutto a carico del Comune. Questa mattina uomini con tute bianche e mascherine accompagnati dagli agenti della Polizia Municipale, Michela Chieferi e Antonio Pelaggi, hanno provveduto a sanificare le attività commerciali, in vista della prossima apertura prevista per lunedì 18 maggio. E intanto il coifeur Gregorio Catricalà annuncia l'apertura della sua attività per martedì 19, solo su appuntamento, telefonando al numero 348 92 24 093. a G.A. a G.A. a G.A. a G.A. a G.A. a G.A. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.